C'è Figlioi che viene giù di gambe, poi l'appoggio per Spagnolo, la finta, la partenza, l'esitazione, l'appoggio al tabellone con tanto di fallo ricevuto da Matteo Spagnolo. Il primo quarto, grande giocata di Spagnolo, finta l'arresto, poi va a tirare, Severini commette fallo e manda Matteo Spagnolo in lunetta per provare a concretizzare la giocata da tre punti, Trento deve tenere i nervi ben saldi per non affondare definitivamente, 18 i punti con sei rimbalzi per Mike Dow, ma galleggia Matteo Spagnolo nel pitturato. Strelli notevole per il più 13 nuovamente, ancora tre secondi per Trento, Spagnolo si alza, arresta e tiro! Resiste solo Spagnolo così come era stato Forrai, anche per impattare. Nuovamente nel punteggio, Spagnolo, giocata pazzesca di Matteo Spagnolo.